Questa è una tecnologia che utilizza l'energia elettromagnetica, la frequenza delle microonde per la disinfestazione delle rate alimentari, nella fattispecie dei cereali e dei legumi, quindi tutto ciò che viene biologicamente aggredito sul campo da dei parassiti e che successivamente alla raccolta necessita di disinfestazione. Il prodotto viene solamente processato attraverso un processo termico, quindi subisce solo un riscaldamento. La temperatura che si raggiunge, tra l'altro, di circa 62 gradi, è stata verificata attraverso degli opportuni approfondimenti scientifici, non altera sia le qualità organorettiche del prodotto e tantomeno le caratteristiche di gelinabilità. Grazie a tutti!